Apriamo il nostro spazio informativo assieme al dottor Renato Bocchini del Poo Laboratorio Chimea, col quale possiamo parlare dei luoghi comuni e delle leggende metropolitane legate alla stipsi. Allora, dottore, è vero che per evitare la stipsi dobbiamo assumere fibre, ma soprattutto se ci spiega che cosa sono le fibre? Ma sostanzialmente è vero innanzitutto che dobbiamo assumere fibre anche se non è che siano un lassativo. Quindi non dobbiamo aspettarci che l'assunzione di fibre ci risolva il problema e che soprattutto sia rapido come effetto. Le fibre agiscono nel tempo, modificando lo stile di vita, diciamo in un mese uno può avere dei risultati. Cosa sono? Sono praticamente lo scheletro dei vegetali che mangiamo, la cellulosa. Noi non siamo erbivori, con buona pace, di chi fa scelte alimentari particolari e quindi non siamo in grado di digerire queste strutture. Queste arrivano nel nostro colon, si riempiono d'acqua e aumentando di volume, tenendo le feci morbide, facilitano la defecazione. A questo punto mi viene da chiederle se esistono delle controindicazioni nell'assunzione di fibre, soprattutto per quanto riguarda la diverticolosi del colon. Controindicazioni assolute no, a meno che non ci siano occlusioni dell'apparato digerente, cioè stenosi, tumori che chiudono, volvoli, eccetera. Perché ovviamente queste sostanze aumentando il volume delle feci, se uno è chiuso, creano ulteriore problema. Controindicazioni relative, più che altro, a dire il vero, se uno ha la diarrea, se uno si sente molto gonfio, perché come accennavo prima non vengono digerite, quindi gonfiano, agiscono gonfiando. Quindi è ovvio che se uno è già gonfio, gli diamo delle fibre, si sente più gonfio. Il discorso dei diverticoli è un discorso particolare, perché in effetti è molto diffusa l'idea che se uno ha diverticoli non deve mangiare le fibre. In realtà è vero l'esatto contrario, cioè una delle ipotesi sulla genesi dei diverticoli è che i diverticoli nascono da una carenza di fibre. Non è solo questo, probabilmente c'entra anche l'età, al prolungarsi dell'età, dei fetti congeniti dell'apparato intestinale. Però in realtà noi fibre anche nei diverticoli dobbiamo mangiarne, a meno che non ci sia una diverticolite acuta, cioè il paziente non abbia un fatto acuto peritoneali, ma allora è occluso e non deve alimentarsi. Noi chiudiamo il nostro spazio di informazione ringraziando il dottor Renato Bocchini per averci dato questi chiarimenti.